il caldo c'è si fa sentire la giornata è fantastica anche perché oggi ragazze di nuovo disponibili new entry praticamente un altro scarico che potevo dire eccoci potevamo cominciare la settimana senza una new entry senza un nuovo scarico no non è da noi e allora per non perdere le sane vecchie buone abitudini ragazze cominciamo con il look of the day di oggi anche perché sono le 12 e 33 circa quindi intanto vi faccio vedere che cosa mi sono messa oggi perché adoro adoro ragazze comodo fresco pratico e molto molto femminile mi piace tanto questo mini abito maxi maglia ragazze è quello che abbiamo messo sul busto c'è anche nella versione rossa delicious allora volendo può essere portato si può portare anche con le spalle tirate su leggermente più accollatino se non volete far vedere nulla ragazze guardate che delizia anche così volendo si può mettere con le spalle scese anche senza reggiseno o con un reggiseno a fascia quindi da portare così voi lo sapete io reggiseno lo uso nero e quindi ce lo lascio bello bello così in bella vista che sono anche più comoda parliamo comunque del vestitino ragazze con la mezza manicuccia con fili elastici nella parte del seno ragazze ultra comodo quindi ottimo per qualsiasi taglia l'elassi anzi i fili elastici li troviamo anche qui nella parte della manicuccia e anche quella rimane veramente confortevole questo modellino qui come vi ho fatto vedere anzi senza che ve lo tiro fuori dal stand ce l'abbiamo e nella versione con i micro fiorellini sul rosso con una punta di verde la base è sempre nera oppure bianco e nero come quello che porto io ragazze mi piace tanto perché è delizioso da mettere come mini abito io in questo caso ci ho messo la cintina che mi tiene un pochino più fermo se lo vado a mettere poi con lo scollo bello sceso ovviamente si può mettere tranquillamente anche senza la cintura perché comunque la parte dei fili elastici mi arriva praticamente alla fine e quindi mi si tiene bene bene è delizioso da mettere sia così sia con la cinturina come lo stavo mettendo prima vi stavo dicendo sia da mettere senza il leggings sotto ovviamente voi lo sapete io non so senza leggings qui a negozio con questi mini abiti o cado perché perché comunque mi muovo parecchio perché ci sto più comodo e poi comunque il leggings è ultra confortevole sempre quello da 5 euro e 99 quello in microfibra quello vita medio alta quello che va a taglia quello che abbiamo anche nella versione lunga quello che arriva a partire dalla s fino a una 4 xl quindi ce l'abbiamo tutte le vestibilità per questo leggings e poi sotto questo spettacolo di scarpine sempre in promo 12 euro e 99 ragazze io praticamente non riesco più a togliermi queste e le altre scarpe che ci sono arrivate sono fantastiche la comodità fatta a scarpa ragazze che dirvi che è perfetta un bello scarico ragazze e mi raccomando ci vediamo nel pomeriggio ovviamente sono aperta fino alle 13 e 30 qui al negozio poi oggi ho un sacco di spedizioni un sacco di consegne quindi sarò in giro per tutta fiana a correre avanti e indietro tra posta e appuntamenti vari e poi a partire dalle 16 saremo di nuovo qui presso il nostro punto vendita con lo scarico mi arrivano scarpe riassortimenti modelli nuovi abbigliamento ragazze chi ne ha più ne metta io vi aspetto mi raccomando occhi aperti qui sulle storie per vedere quali sono gli articoli occhi aperti sulla pagina se volete poi avere anche una linea diretta con me sono a vostra disposizione rgn lovers instagram facebook youtube tiktok per avere una linea diretta con me rgn lovers sempre mi raccomando e poi occhi aperti pure sul canale di youtube iscrivetevi perché se vi perdete qualche storia qui su instagram o su facebook lì sul canale di youtube le ritrovate postate come video spoiler basta vado rgn lovers cioè ci vediamo ciao a dopo mi raccomando vi aspetto ciao ragazze buonasera ore 19 sempre lunedì 27 ho appena finito di fare lo scarico ma anche di servire ma anche di prendermi un sacco di scarpe ragazze che belle adesso ve le faccio vedere tutte tutte quante promo sempre 12 euro e 99 ragazze me ne sono arrivate una marea allora cominciamo subito subito con gli articoli di assortimento innanzitutto vorrei dire fabiana le culottine bianche ci sono quindi vai tranquilla sempre 4 euro e 99 le culottine per fabiana allora di nuovo disponibile questa mattina è passato qualcuno me l'ha chiesto se c'avevo ancora i jeans quelli a shorts quelli a palloncino ragazze mi sono ritornati di nuovo disponibili tutte le tal quindi questo ve l'ho fatto vedere poi vi dico che mi sono ritornati di nuovo disponibili vestito con l'inserto di jeans o meglio di chambri quindi cotone effetto ginsato e cotone nella parte di sotto fantasia mi è ritornato di nuovo disponibile in due fantasie nuove ragazze una più bella dell'altra bello 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 ce l'abbiamo disponibile questo modellino qui anche sul verde e poi ancora mi sono ritornati di nuovo disponibili i vestiti quelli lunghi quelli con i fiocchetti quelle che mi sono presa verde oliva che abbiamo di nuovo disponibile e nella versione nera e nella versione verde prato è ritornato ragazze si è ritornato quindi verde prato nero disponibile nella versione cammello disponibile nella versione bianca il verde è già stato rivenduto oggi pomeriggio quello verde oliva e poi finalmente mi sono ritornati di nuovo disponibili i vestiti quelli in viscosa ultra leggero spalla larga scolla v avanti e dietro modello morbidissimo ampio nella parte di sotto per quanto riguarda la vestibilità questo ragazzi è veramente fantastico sta bene a tutte sta benissimo anche le taglie piccole da mettere con un bel cintone da sbussare disponibile nella versione verde nera nella versione verde salvia nella versione cammello e ragazze mi è arrivato anche amarena bellissimo e poi ancora mi sono ritornati di nuovo disponibili i vestitini quelli tutti di pizzo a uncinetto col macramè quelli che rimangono svasati con le bretelle che si regolano come se fossero reggisino ragazze di nuovo disponibili nella versione nera di nuovo disponibili i bermuda quelli in tessuto di felpa quelli a taglia unica alleggiari freschi comodi pratici per tutti i giorni di nuovo disponibili la versione nera la versione verde militare la versione grigia questi ci sono di nuovo ritornati disponibili come mi sono ritornati di nuovo disponibili i pantaloni tutti in pizzo sangallo quelli a palazzo ragazze taglia unica con i fili elastici nella parte alta si possono regolare a vita un po più alta si possono mettere un un po più bassa si possono mettere perché sono veramente fantastici e poi ci hanno pure il pantaloncino nella parte di sotto quindi non traspaiono ragazze sono fantastici di nuovo disponibile nella versione nera nella versione cammello ce l'abbiamo ancora disponibile nella versione bianca quindi tutte e tre i colori a vostra disposizione e poi ancora ritornate di nuovo disponibili le blusette quelle con il collo a giro quelle in tessuto di questo è crepe taglia unica con la spalla con la ruscita disponibile bianca amarena ed è bellissimo il riassortimento per quanto riguarda il pantalone quello con il risvoltino in pizzo sangallo nella versione verde oliva di nuovo ci è arrivato nella versione nera ragazze guardate quanto sono fighi ci sono arrivati anche a fantasia micro maculato e maculato grande sempre con il pizzo sangallo stesso tessuto quindi misso cotone e lino ottima la vestibilità taglia unica sono freschissime stanno benissimo a tutte e poi questa me l'avete vista indossata me la sono presa una maglia che amo che c'è rientrata nella versione verde salvia ancora disponibile nella versione bianca e mi è scivolata la versione amarena eccola qui ragazze bella 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 taglia unica ottima la vestibilità giro manica con la ruscita scollo a v perché è viscosa la lunghezza è fantastica perché copre pure le ciapette quindi fantastico da mettere io l'ho messo con un pantalone bianco ma anche sul leggins sta benissimo e poi il top scialato intacte ragazze mi è rientrato nella versione nera nella versione bordeaux nella versione verde militare nella versione bianca taglia unica ottima la vestibilità il top scialato sta benissimo anche a chi ha il seno grande e finalmente mi sono ritornati di nuovo disponibili questi me ne avevate chiesti in tanti le avevamo finiti ma era rimasto soltanto la colorazione marroncina ragazze di nuovo disponibile e guardate che spettacolo questa amarena è bellissimo il pantalone a palazzo quello corto quello con l'elastico in vita quello che calza veramente benissimo il tessuto di cotone disponibile nella versione blu nella versione amarena disponibile nella versione nera ce l'abbiamo ancora disponibile anche nella versione marroncina uno di quegli articoli che non può mancare nell'armadio ragazze e poi ancora di nuovo disponibili le canotte quelle lunghe con lo scolla v quelle che rimangono svasatine di nuovo disponibile taglia unica ottima la vestibilità anche da mettere su leggins con questa ci ho fatto una stories perché me la sono presa nella versione blu che abbiamo ancora disponibile a proposito c'era una ragazza che mi sono ritornate di nuovo disponibili e nella versione nera e nella versione rossa e nella versione bianca eccola qua ragazza mi sono rientrate stessa fantasia del vestitino che porto io ma modello totalmente diverso è ritornato di nuovo disponibile il vestitino mini abito con le bretelline quello che ha le coppe il tessuto è lo stesso la fantasia pure micro fiorellini con la colorazione sul blu di nuovo disponibile e anche la colorazione del rosso ragazze ci è ritornato questo si è venduto veramente bene ed è delizioso come si sono venduti bene siamo andati subito subito a riprendere anche i top quelli in tessuto sangallo ragazze microfibra per quanto riguarda la parte di sotto scollo a v avanti e dietro bretellina lunghezza che copre pure le ciapette questo ci è ritornato di nuovo disponibile quindi ce l'abbiamo sentito in tutti quanti i colori e ragazze queste non potevamo non riprenderle perché calzano benissimo perché sono taglia unica sono i blazer in tessuto di lino di nuovo disponibile la versione con il sabbia di nuovo disponibile la versione bianca ragazze eccola qui blazer leggerissimo tessuto di lino con la manica che volando si può anche risvoltare è bellissima l'ho provata me ne sono innamorata me la sto rimandando in ordine perché allora ragazze 19 e 30 circa mi sono dovuta stoppare un attimino perché c'è gente guardate un po' provano le scarpine nuove e lo so ragazze allora facciamo una cosa domani mattina allora ragazze ho altri tre articoli ma questa volta nuovi non riassortimenti per quanto riguarda l'abbigliamento che vi devo far vedere ma vi farò vedere domani perché adesso tocca a loro bellissimo vi faccio vedere una carrellata velocissima per farvi vedere i modelli queste mi sono arrivate nuove queste mi sono rientrate di nuovo disponibili quindi ho tutte le taglie è quella che porto io sempre promo tutte quante 12 euro e 99 ragazze pure di questo ho preso tutte quelle che c'erano disponibili a magazzino ultra comode queste qui new entry questo modellino qui che è bellissimo un infradito ragazze domani ve lo faccio vedere con comodo come vi farò vedere questa sabbatina che già mi sono presa maculata delizia comodissima che se veramente ultra comoda poi questa è quella che si sta prendendo adesso la signora ciao bella grazie ciao questa qui pure sempre 12 euro e 99 espadrillas questa l'ho provata incrociata nella parte davanti quindi spuntata davanti ragazze con la parte di dietro chiusa e necopelle morbidissima ultramorbida ma soprattutto ultramorbida perché effetto memory questa qua l'ho provata è una cosa scandalosa per quanto è comoda questa scarpa leggermente rialzata quindi non è nemmeno ultra piatta ragazze è veramente deliziosa una più bella dell'altra vedo solo che già me ne sono presa quattro paglia allora tutte 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 12 euro e 99 ragazze lo so stiamo vi stiamo facendo un regalo e adesso è il momento di prendere le scarpe perché non ce ne sono tantissime a magazzino perché tutte quelle che sto prendendo che sono le più comode le sto prendendo tutte quindi mi raccomando correte a partire dal numero 86 fino al numero 41 già le stiamo vendendo ciabattina con quattro filette di strass ragazze cioè queste vi devo far vedere come stanno al piede bellissime tutte quante quelle in promo a 12 euro e 99 ma adesso io vado a servire mi raccomando ragazze sbrigatevi perché a questo prezzo non so fino a che punto ci saranno i numeri e già ce le stiamo prendendo tutte ci vediamo ciao 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 Grazie a tutti